Non c'è stato un colpo. Mio fratello che abita sotto ha sentito fare come un raschiare per terra e la moto è andata fino in fondo là. Pioveva di rotto poco dopo le 7 di stamattina tra via Varente e via Sant'Antonio, incrocio lungo la strada regionale 53 Pustumia a Campagnalta di San Martino di Lupari. Stava andando a scuola lo studente di 13 anni investito qui mentre in sella la sua bici stava per attraversare la strada diretto alle medie. A investirlo una moto condotta da un uomo di 56 anni residente in provincia di Treviso. Un impatto violentissimo di cui sull'asfalto qualche ora dopo resta questo, un pezzo di giubbotto. Una scena terribile. C'erano due ambulanze e poi è arrivato l'elicottero e si è andato giù dietro quella casa là. Un'ambulanza trasporta il motociclista all'ospedale di Cittadella e lo studente è gravissimo e per questo viene trasportato in elicottero all'ospedale di Padova dove i medici stanno tentando di tutto per salvargli la vita. Sul posto anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Informata la procura sia la bici che la moto sono state poste sotto sequestro. Una strada che resta molto pericolosa alla regionale che collega Treviso a Vicenza. È pericolosa perché siamo noi che la facciamo. Due settimane fa è passato uno. Ha sorpassato la colonna con ruota alta ancora con la moto. Non è normale.